che soggettare sei? bravo vince il 7-20 9-2 maschile alla finale numero 24 la carottieri Lenzo Giunti Andrea Pazzagli sentite che tifoseria mamma mia una grande gioia ha controllato che fosse d'oro la medaglia hai controllato che la medaglia fosse d'oro? eh sì tutto a posto? sì quasi non ci credevi dimmi la verità com'è andata questa gara? bene bene raccontaci un po' in partenza cosa è successo in partenza eravamo tutti lì poi alla fine ho cercato di dare un distacco abbastanza grande in modo da farvi la gara più tranquillamente possibile qual è la cosa che ti piace di più del festival dei giovani? no eh l'ambiente e le persone che ci sono dobbiamo salutare qualcuno magari lì stanno facendo i video come se fossimo a Rai 3? no sì la mia famiglia i miei allenatori e i giunti i miei compagni salutiamo tutta la tifoseria un abbraccio speciale grazie grazie complimenti ancora per questo tuo bellissimo risultato bravo grazie a tutti Grazie.